Il terzo valico e il retroporto sono le grandi infrastrutture che dobbiamo portare avanti insieme per rafforzare i nostri sistemi produttivi, quelli cioè di una grande area macro regionale. Così il governatore del Piemonte Roberto Cota. Sentiamo. Si è parlato di sviluppo dei nostri territori e ovviamente le merci arrivano qui, poi devono poter arrivare in Piemonte e in Lombardia al centro dell'Europa e i retroporti sono fondamentali per dare uno sviluppo a tutto il sistema. Insomma della macro regione del nord a parte anche la Liguria. Io penso che se siamo qui è perché c'è un'omogeneità tra i territori. Nonostante le differenze politiche. No, quelle non contano, ci sono cose più importanti. Ma sono fondamentali anche le infrastrutture per fare un'altra delle merci. Sì, certo sono fondamentali le infrastrutture e noi abbiamo una grande carta da giocare in futuro. E questa carta ce la possiamo spendere proprio realizzando le infrastrutture. Chi sta fermo è perduto. Quale può essere il valore aggiunto della Liguria per il Piemonte? E lo sbocco al mare, come ha detto il Presidente Maroni, c'è la possibilità sicuramente di far arrivare le merci e questo può diventare il porto di Genova che è già molto importante, può diventare uno dei porti più importanti del mondo e tutti possiamo trarne un beneficio. Ci potrebbe essere veramente un miglioramento della competitività del nostro sistema produttivo. Bisogna agire con tempi più rapidi rispetto a Roma? Beh, questo sempre.